Sono Chigiato Luca, amministratore della Chigiato Trasporti SRM. La Chigiato Trasporti è nata nel 1972 e ad oggi conta 102 persone. La nostra attività si basa sul trasporto di farmaceutico in tutta Europa. La nostra flotta è composta da 80 veicoli Volvo. Il veicolo LNG è arrivato in Chigiato quasi per caso. All'inizio si pensava fosse un peso ma poi si è riscontrata un vero affare per l'azienda. Il risparmio è immediato. Stanno 205 kg quanto spendi? Mediamente sui 196-197 euro di gas. Mediamente ho un'autonomia di 1000 km. Deve sempre pianificare il tipo di strada, il percorso che deve fare in base ai rifornimenti. Però una volta ho capito dove fermarsi non c'è nessun problema. Quello che è stato anticipato dalle prove l'ho riscontrato personalmente. Sono pienamente soddisfatto della potenza che ho a disposizione. Rispetto a un veicolo puramente diesel, a livello di prestazione pura, io non ho trovato questa grossa differenza. Anche in salita non c'è nessun problema. Volvo ha una sicurezza a 360 gradi. Per quanto riguarda il rifornimento non c'è pericolo di esplosione perché il serbatoio non è in pressione. Abbiamo scelto Volvo perché in questi anni è stato un veicolo che ci ha dato un sacco di soddisfazioni, sia a livelli di sicurezza che a livelli di consumi. Ho piena fiducia in questo marchio. Molti pensano che una volta veduto un mezzo sia fatta, invece la cosa più importante è dopo la vendita. E devo dire che Volvo è all'avanguardia in questo. Io consiglierei come tecnologia metano, attualmente col mezzo che uso, posso fare qualsiasi tipo di lavoro.